Mr. John Holloway, Presidente del Consiglio di Gestione del Fondo AMUF. Perché è importante per l'ADEP l'adesione al progetto AMUF? Il progetto AMUF offre alle casse previdenziali qui in Italia una possibilità di investire fra AMUF in fondi di piccole e medie imprese dovunque in Europa. Il nostro fondo AMUF ha già approvato investimenti in 21 fondi in Europa, non soltanto in Italia, ma dovunque in Europa. E questo risponde al programma di WISE con cui l'ADEP sta andando avanti adesso. Gli strumenti dell'AMUF rispondono bene alle esigenze degli investitori che sono le casse previdenziali qui in Italia, risponde bene alle prospettive che può offrire l'AMUF con le esigenze che hanno le casse previdenziali. Così abbiamo la base di una relazione a lungo termine con le esigenze delle casse e l'offerta dell'AMUF che vanno tutti e due molto bene insieme.